Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via il videoprogetto. Ritorniamo con la rubrica delle mattonelle. Oggi vi farò vedere una mattonella esagonale ma è molto molto facile. Diciamo che mi è stata anche chiesta per fare dei lavori per la stagione invernale 2024-2025 quindi mi metto già all'opera. Intanto come filato potete usare quello che desiderate basta che comunque adattate l'uncinetto più giusto. Iniziamo con un odino e andiamo a fare dopo sei catenele. Quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei. Poi ci chiudiamo qui sulla prima con una maglia bassissima. Ci alziamo con tre catenele e iniziamo già la prima riga. Quindi questa è già una prima maglia alta. Rientriamo e andiamo a farne altre due. Quindi un totale di tre maglie alte. Andiamo a fare tre catenele. Carichiamo e andiamo a fare un blocco sempre da tre maglie alte. Finito questo blocco sempre tre catenele di separazione. Questo lo dobbiamo fare per tre volte quindi il totale è di 18 punti tra punti alti e catenelle. Andiamo a concludere la prima riga. Uno, due, tre. Sulla terza catenella andiamo a chiuderci con un punto bassissimo. Eccolo qua. Ora iniziamo la seconda riga. Semplicemente andiamo ad alzarci con tre catenelle che ci fungono da maglia alta. Però queste tre catenelle appartengono a questo blocco qua. quindi l'andiamo a calcolare quando chiudiamo la riga. Ora andiamo ad aggiungere sette catenelle. Quindi il totale di questo giro sarebbe da dieci. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette più le tre iniziali totali dieci. Carichiamo l'uncinetto e nello spazietto qui delle tre catenelle e andiamo a fare sette maglie alte. Questo è quello da fare per tutta la seconda riga. Semplicemente lavoriamo sette maglie alte 6 e 7 e andiamo a fare le catenelle. Ci ritroviamo a concludere la riga. Andiamo a concludere la seconda riga. Io quindi ho uno, due, tre, quattro, cinque faccio il sesto punto il settimo non lo devo fare perché questo è il primo all'inizio quando ci siamo alzati con le catenelle vi ricordate? Entro semplicemente nella terza catenella lavorata e mi chiudo con un punto bassissimo. Ora inizio subito la terza riga standomi direttamente nello spazio vuoto. Mi alzo con tre catenelle carico e vado a fare altri otto punti alti per un totale di nove quindi se ho nove punti alti avrò anche nove catenelle. Intanto sono uno, due, tre, quattro, cinque sei sette otto e nove e nove poi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove catenelle carico mi sposto direttamente nel prossimo spazio e lavoro sempre nove punti alti. questa è tutta la terza riga andiamo a concludere la terza riga uno, due, tre qui sulla terza catenella iniziale ci chiudiamo con una maglia bassissima siamo già in pratica per iniziare la quarta riga e cerchiamo direttamente con le catenelle queste catenelle in realtà apparterranno a questo blocco qui dopo lo vedrete quando andiamo a concludere ci alziamo con quattro non più con tre e poi lo capirete poi andiamo a fare altre cinque catenelle contiamo sulla base uno, due, tre, quattro nel quinto punto andiamo a fare una maglia bassa un punto basso poi cinque catenelle tre, quattro e cinque caricate due volte andiamo a fare una maglia altissima poi abbiamo tre punti alti semplici uno, due e tre poi una mezza maglia alta quindi carichiamo e scarichiamo subito e un punto basso adesso rifacciamo i punti al contrario quindi andremo a fare una mezza maglia alta tre punti alti uno, due e tre e un punto altissimo ecco questi sono tutti i punti da fare arrivati qui andiamo a fare cinque catenelle contiamo sulla base uno, due, tre, quattro nel quinto punto facciamo un punto basso cinque catenelle carichiamo due volte andiamo a fare una maglia altissima e facciamo questo blocco qua questa è tutta la quarta riga andiamo a concludere la quarta riga e poi iniziamo la quinta che è anche l'ultima intanto ci chiudiamo su uno, due, tre sulla quarta catenella maglia bassissima ora dobbiamo andare a riprendere il tutto con un giro di punto basso quindi entriamo qui nello spazzetto e facciamo tanti punti bassi quanti sono le catenelle siccome sono cinque ne andremo a fare cinque quindi una due tre quattro e cinque c'è il punto basso lo lavoriamo normalmente poi andiamo a fare altri cinque quando andremo qua nel punto in cui ci sono i punti pieni dobbiamo fare lo stesso lavoro che vi faccio vedere quindi uno, due un attimo che finisco questo tre quattro e cinque quando arriviamo qui facciamo lo stesso lavoro però dobbiamo creare le punte dove andremo a definire insomma la mattonella in pratica quando finiamo questa parte qua facciamo due catenelle e entriamo a lavorare questo blocco creiamo una specie di punta che poi ci aiuterà in un lavoro grosso dove andremo a fare una maglia un cardigan uno shawl ci aiuterà a essere un punto di appoggio per attaccare le altre qui non dobbiamo fare altro che ripassare quindi la mattonella rispettando tutti i punti di base uno è qua anzi vi faccio e poi li faccio e poi vi faccio vedere scusate il gioco di parole perché è più facile da capire eccola eccola qui conclusa allora io ne ho fatte due di catenelle vedete che le punte sono molto leggerine però potete fare ne tre quattro non vi cambia niente li avrete semplicemente un po' più grandi allora partiamo con un multiplo di tre passiamo al sette al nove all'undici e l'ultima riprende i punti quindi non ci sono dei gran numeri da ricordare non vi troverete in difficoltà è una mattonella molto facile molto semplice ci sono tante catenelle in mezzo quindi è anche veloce da fare i lati e sagonali non sono ben definiti anche per il fatto che abbiamo giocato un sacco con le catenelle ma questo nell'indosso comunque nell'utilizzo fate conto se fate un cardigan grande con il tempo con l'utilizzo praticamente poi si riprende il tutto è facile come ho detto prima e soprattutto è molto aperta quindi se avete l'intenzione di utilizzare un filato molto spesso ma messo anche due o tre volte con un uncinetto molto grande tiene il giusto caldo se questa mattonella venne immaginata per un periodo invernale vi ho detto che ho l'intenzione di creare qualcosa con questo tipo di mattonelle quindi adesso ne farò un po' di modelli e in base ai vostri commenti alle vostre reazioni alle visualizzazioni andrò a scegliere la mattonella che più vi piace per creare qualcosa insieme che cosa ancora non ho deciso però diciamo che mi è stata fatta una richiesta ben precisa vediamo se riusciamo a soddisfare quella bene io vi mando un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo videoprogetto ciao Grazie a tutti